Camminando salve il cammino è un progetto ideato e fortemente voluto da alcune compratenite del coordinamento campano della Confederazione per perseverare e proseguire nel processo di crescita scrittuale e giungere alla celebrazione del Giubileo 2025, consapevoli che la nostra unica salvezza è nel Signore. L'icona, partita il 3 giugno 2023 da Pompei, sosterrà in ciascuna regione per un mese circa ed ogni confraternita coinvolta la ospiterà per tre giorni, durante i quali, a cura delle confraternite del territorio, saranno organizzate eventi di preghiera e fratellanza. Le nostre confraternite sono in cammino dalla notte dei tempi e oggi, alla vigilia dell'anno giubilare, vengono chiamate a essere testimoni della fede, annunciatrici del Vangelo e custodi della tradizione. Troppo spesso, in nome di quest'ultima, rischiamo di porre in secondo piano le finalità con cui i nostri padri hanno dato vita ai nostri sovareizi. Il compositore e direttore d'orchestra austriaco, Gustav Mahler, ebbe modo di considerare che la tradizione è custodire il fuoco, non adorare le generi. Chiariamo dunque al Signore di saperti scegliere il fuoco dalla genere, affinché, rimuovendo tutto ciò che non è importante e necessario, la genere, quindi, il fuoco forte e prorompente della nostra fede possa continuare a riscaldare con forza le nostre vite. Grazie per l'attenzione.